Nel quadro dei Littoriali della V, la gara fra i poligrafici. Gli aggiustatori meccanici all'opera. Alla Pineta Sacchetti, tramutata in un cantiere in festa, mentre 74 giovani muratori svolgono il loro tema. Un arco di mattoni a tutto sesto di un metro di luce. Alla Pineta Sacchetti, tramutata in un metro di luce.